Tanto bello quanto inaspettato. Se facciamo un miracolo arriviamo quinti. Se succede proprio il più grande dei miracoli, prendiamo la vitaglia e arriviamo terzi. Però per noi era impensabile di arrivare primi. Però quando gareggi c'è una parte razionale e poi c'è la parte irrazionale che ti parlo del giorno della gara. E lì noi volevamo vincere. Cioè eravamo tutti e sei, perché eravamo in sei, convinti di poter vincere. Cioè addirittura, ti dico una cosa molto bella secondo me, quando entri nello stadio, le staffette fai una sorta di presentazione, una squadra alla volta. E un po' tutti, dopo Bolt, fanno un balletto, fanno una mossa, fanno così. E noi dovevamo entrare, comunque eravamo quasi gli ultimi, eravamo lì a chiederci... tutte le squadre si preparano una coreografia. E mi hanno chiesto, cosa facciamo noi? Io le guardate e ho detto, ragazzi facciamoli fare loro i balletti, noi entriamo in campo e andiamo a vincere noi. Cioè noi corriamo e vinciamo, loro fanno i balletti e i balletti non li facciamo dopo.